Ormai Diego Fusaro è un prete tradizionalista, dovrebbe essere cooptato dal Vaticano ed essere fatto vescovo sul campo. Come si è fatto con il generale von Paulus a Stalingrado, Adolf Hitler, per incoraggiarlo, gli ha mandato un aeroplano con la croce di ferro e l'ha nominato Feld Maresciallo, Feld, Feld, Maresciallo di campo. Così Diego Fusaro, pure se non è entrato in seminario, pure se non ha ricevuto gli ordini religiosi, dovrebbe essere nominato vescovo sul campo. Perché da Facebook Paolo Rubi Piccinelli mi ha inviato un articolo di Diego Fusaro. Io questo articolo di Diego Fusaro ve lo metto nel riassunto di questo video. Diego Fusaro, ma è un pezzo che lo vado dicendo, è che prima o poi si farà frate, con tutto rispetto per i frati. Capito? Anche se lui continua a parlare di Max, prima o poi si farà frate. È un puritano, eh. Niente di male essere puritani, per carità, ci mancherebbe altro. Però a ciascuno il suo, capito? A ciascuno il suo. Allora, in questo articolo Diego Fusaro dice che Papa Francesco ha ragione. Io gli voglio bene a Papa Francesco che sia chiaro, però pure Papa Francesco deve stare seminato, Papa Francesco. Ma Diego Fusaro non è che Papa Francesco. Diego Fusaro ha detto che relativamente alle coppie gay, all'istituto della Step Child Adoption, non tutto può essere considerato famiglia. Ma come? Ma come? Ma come Diego Fusaro? Un marxista dice queste cose? Beh, io il tuo articolo non mi pare che sia stato pubblicato sul Fatto Quotidiano. Non credo che il Fatto Quotidiano te l'avrebbe pubblicato. Non lo so mica dove è stato pubblicato. So soltanto che c'è un sito, un sito dove c'è il tuo articolo, Diego Fusaro. Comunque, guarda, io l'ho già detto in qualche altro video precedente, tu prima o poi ti farai frate, ti farai frate francescano. E io ti invidio, sai? Ti invidio. Perché i frati francescani, come tutti i frati, hanno la fede e chi ha la fede c'è una marcia in più. Però ciascuno è il suo. E tu non puoi continuare a parlare di Marx. Non puoi, Diego Fusaro, continuare a parlare di Marx. Hai scritto l'ultimo libro, mi pare intitolato Bentornato Marx. Beh, e poi dire che ha ragione Papa Francesco perché non tutto è famiglia. E beh, ma che facciamo? Tieni i piedi in due staffe, Diego Fusaro? Eh, vabbè, dai. Ci siamo capiti, capito? Ci siamo capiti, ci siamo. Ormai la musica è la stesa. Oh, Diego Fusaro, guarda che non sono io che prendo l'iniziativa nei tuoi confronti. Sono i miei cari amici che mi scrivono perché vogliono sentire il mio commento, i commenti di me, libero battitore del web, di libero battitore del web. Vabbè, e anche qua va di errante. Ok, cari amici, a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni. Grazie. Grazie.